12 anni di reclusione e questa la richiesta al Tribunale avanzata dal PM di Crotone Pasquale Festa nei confronti della donna accusata di concorso anomalo nel tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane di Bologna ridotto in fin di vita dopo un'aggressione subita l'11 agosto del 2022 nel centro di Crotone. Il PM ha chiesto anche la condanna a 4 anni e 8 mesi per Andrei Gaio, compagno della donna. Per l'aggressione è già stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 20 anni di reclusione Nicolò Passalacqua, l'autore materiale. Per lui è in corso il processo d'appello. Davide Ferrerio è stato vittima di un'aggressione per uno scambio di persona nel corso di una spedizione punitiva che aveva come obiettivo un uomo che infastidiva sui social la figlia della donna. La ragazza è stata messa in prova dal Tribunale dei minorenni di Catanzaro, mentre l'uomo Alessandro Curto, che depistò il gruppo di Passalacqua inviando il messaggio alla giovane o anche una camicia bianca che provocò l'equivoco all'origine dell'aggressione, è stato chiesto il rinvio a giudizio. La condanna degli imputati è stata chiesta anche dalle parti civili. La famiglia ha chiesto poi 1.800.000 euro di risarcimento del danno, mentre 100.000 euro sono stati chiesti per danno di immagine dai comuni di Crotone e Bologna e dalla provincia di Crotone.